Rendi il tuo groove più interessante. Passa da questo, a questo. Usa le ghost note. Ora ti mostrerò due esempi su cui potrai esercitarti tratti dal libro Modern Drum Institute. Ciò a cui dobbiamo fare attenzione è la differenza di dinamica tra le ghost note e i backbeats. Le ghost note vanno suonate a circa 1-2 cm di altezza dalla pelle del rullante. Vi lascio in descrizione un pdf dove troverete i groove che abbiamo suonato più altri due sempre tratti dal libro.